Siamo rossoneri, siamo una famiglia vera Scrivi sfoga, dici quel che pensi, dacci la tua idea Siamo rossoneri, siamo quelli che non hanno paura Apri questo sito, abbiamo bisogno di una voce nuova Hello, 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 mirandello Rispondiamo a tutti, a questo e quello Hello, 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 mirandello E se è rossonero, quanto è bello Ciao Le cause sono, come si dice, esogene ed endogene Sulle cause endogene, quindi interne alla nostra squadra, alla nostra società Ne parleremo prossimamente e ci dilungheremo oggi Parliamo della partita, ecco, perché è una partita che abbiamo perso Ma per prima cosa, per primissima cosa, bisogna dire Grazie ragazzi, bravi ragazzi, bravo Pioli Perché comunque abbiamo messo in difficoltà una squadra Con una rosa nettamente, nettamente più forte Leggevo oggi che la rosa, i primi 13 giocatori della Juventus Sono stati acquistati per un valore di 510 milioni I primi 13 giocatori della rosa del Milan Sono stati acquistati per un valore di 110 milioni Quindi c'è 5 volte tanto di valore d'acquisto iniziale Eppure in campo non si è visto Perché il primo tempo abbiamo tenuto bene Anche se loro hanno preso un palo, direi un palo clamoroso Però abbiamo chiuso il primo tempo sul 1-1 Con un bel gol di Calabria Calabria che ha giocato assolutamente fuori ruolo Ma comunque ha fatto vedere che il suo piede è migliorato notevolmente Calabria fino a un anno fa, un anno e mezzo fa Sbagliava i passaggi di 5 metri Oggi abbiamo visto fare i passaggi di 20-30 metri Cioè è migliorato moltissimo Merito suo, merito di Pioli, come dicevo Leao era davanti l'unico attaccante Eppure ha fatto bene Non ha fatto gol, lui non ha secondo me il gol nel sangue Non è un centravanti, non è assolutamente un centravanti Però ha fatto bene Specialmente il primo tempo ha fatto piuttosto bene Chi è mancato un po' Chi è mancato un po' Sono stati alcuni giocatori su cui noi contavamo molto Giocatori forti, forti da Milan Ne avevamo dentro tre, diciamo Donnarumma, Romagnoli Donnarumma e Romagnoli Romagnoli non ha fatto particolarmente bene E come non ha fatto particolarmente bene Hernández I tre appunto sono questi Donnarumma che ha fatto una grande parata E poi sui gol non poteva niente E poi Romagnoli ed Hernández Su Hernández sinceramente io puntavo molto Io puntavo, l'unica possibilità secondo me Che il Milan aveva di pareggiare o vincere la partita E riuscire a sfondare sulla sinistra Con la grande capacità di Hernández E la gioventù, la follia di Aughe Aughe non ha fatto male Però non è ancora un giocatore pronto o finito per questi livelli Purtroppo Hernández ha fatto male Quindi avevamo una squadra veramente con tantissime risorse Purtroppo per un motivo o per l'altro Anche i pezzi sicuri non sono andati bene Però come squadra Come squadra abbiamo giocato bene Il gioco c'è stato Abbiamo in certi momenti addirittura chiuso la Juventus Veramente abbiamo fatto qualche cosa di insperato Specialmente di insperato a inizio anno Quando cominciò il campionato Non pensavamo di poter avere questo sviluppo Questo sviluppo di gioco Quindi io ripeto C'è delusione C'è tanta delusione per questo risultato Mitigato parzialmente dalla sconfitta dell'Inter E io devo dire anche dalla sconfitta del Napoli Però insomma Non si può tacere anche quello che è successo al di là dei meriti in campo Si dice che il primo gol del Milan fosse viziato da un fallo Forse c'era questo fallo Ma era un fallo a 80 metri dalla porta Quello che è certo su cui non si può discutere E che l'arbitro ha sbagliato clamorosamente nella non espulsione di Bentancur Bentancur andava espulso I fatti dicono che eravamo 1-0 No, 2-1 Eravamo 2-1 per la Juventus Espulsione di Bentancur doveva venire a 20-22 minuti dalla fine della partita Magari finiva 2-1 Magari finiva 3-1 Comunque Però magari un gol riusciamo a farlo Perché giocare 11 contro 10 è molto e molto importante Piccola nota polemica A noi ci è mancato anche Tonali Ci è mancato anche Tonali che è stato espulso ingiustamente Quindi l'opposto Bentancur doveva essere espulso e non è stato espulso Tonali la scorsa partita non doveva essere espulso e viene espulso E ci manca Ma soprattutto il Milan Tre giorni prima giocò tutta la partita 1-1 di partita in 10 Quindi stancandosi molto di più contro il Benevento Comunque È facile dire che con la Juventus queste cose succedono con una certa costanza Obiettivamente non abbiamo perso per colpa dell'arbitro e basta Abbiamo perso per una serie di motivi Tra cui anche l'arbitro che sicuramente ha dato una mano importante alla Juventus Nel momento topico Comunque siamo contenti di questo Milan Contenti di questi ragazzi Nei prossimi video però Metterò da parte la contentezza per quello che stanno facendo E mi metterò a tartassare A tartassare fino all'ultimo giorno di calcio mercato La società per risolvere i problemi che abbiamo E che è veramente importante E opportuno dare una mano al nostro allenatore Per dargli in mano più carte da giocare Per poter arrivare al nostro obiettivo Un saluto a tutti Dalla Voce del Diavolo Ci trovate anche sul canale YouTube Milan e Lo E adesso anche su Instagram Alla Voce del Diavolo Ciao a tutti